Siamo con l'assessore Gianpedrone della Regione Liguria alla seconda tappa delle lauree in città, un conubio tra la Regione Liguria e l'Università di Genova. Credo è un'iniziativa molto importante che la Regione ha voluto sostenere, grazie anche ovviamente all'impegno dell'Università di Genova, per cercare di capire che il mondo istituzionale, tutto insieme, deve dare un supporto a questi ragazzi che stanno raggiungendo un traguardo molto importante per il loro futuro. La mia presenza qua oggi ovviamente è una presenza importante, rappresentanza della Giunta e anche con un pizzico di orgoglio, perché ovviamente ricordo con piacere certi momenti che ho vissuto nel mio percorso di studi. Quindi lei si ricorderà il suo giorno di laurea? Un giorno che sicuramente è un giorno importante per le famiglie e per questi ragazzi che hanno fatto un loro percorso e che arrivano a una prima sfida vinta dalla loro vita, ne avranno certamente molte altre, mi auguro che per loro il mondo del lavoro, il mondo delle soddisfazioni professionali possa essere lieto nel senso che le loro attitudini possano essere veramente garantite al massimo del loro impegno.